Non c'erano così tanti ricoverati per covid da prima di Natale. I 15 ingressi delle ultime ore portano il totale degli ospedalizzati a quota 615, numero che è cresciuto di quasi 150 unità nel giro di due settimane. In particolare 551 pazienti, più 16 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica, dove il tasso di occupazione è al 37%, mentre 63 sono in terapia intensiva, dove è occupato un letto su tre dei 189 disponibili in Abruzzo. Oggi 438 nuovi casi di covid, 9819 test tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività complessivo del 4,5%. Il più giovane tra i contagiati a sei mesi, il più anziano a 97 anni. Le zone più colpite ancora quelle del Pescarese e del Chietino. In queste province sono rispettivamente 161 e 147 nuovi casi, mentre numeri più bassi nel Terramano 57 e nell'Aquilano 48. Nell'area metropolitana di Laga, la variante inglese, responsabile della maggior parte dei contagi. Sei decessi accertati, tre nel Chietino e uno nelle altre tre province. Il bilancio delle vittime sale a 1588. 529 guariti delle ultime ore. Attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 12.207, meno 97 rispetto a ieri.